ragazzi ha levato il manicottore abbassa uno qua poi uno qua poi uno qua una sanitaria per il lanche del buono si sono tutti buoni dipendendo come li uso ma che forte casinero ma anche l'ubo ma vedi che l'ubo è morto da kitchen beh io su bianchi ho un ferro irattivo ottimo niente lei non giochiamo noi oggi no tranquillo sì l'ultimo kill è mio no 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 fidati te basta devi smettere piccoli allora ti tappo però non lo smetti piccoli a info una verso di me che vuol diverso di tra tutto nella mia zona la tua zona master dove dove fra dove era la gu no white eh no era azzurro però dove è azzurro che cazzo è azzurro è la cura 2 azzetta sotto white tiri qui si sale main ok fra senti a salmi ferro irattivo 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 d courage tiri i ti ei sono quindi vediamo se dire devi i Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ma tu sai l'altra dove la metto Finchia, ti giuro che se la prendono non rido eh Tu ridi e io mi prendi la kill Ti prendi la kill Proprio lui l'ha detto Chat Chat ci state? Perché voglio il passaggio bello pulito Va bene Oh penso sia comunque call of duty sta partita Sta la finestra Ce n'era uno sul finestra Finestra kill 1 Capito E io sono morto e ho comprato a fare con la finestra Un'altra era a kill 2 window Chat E' un frostbord E' un frostbord C'era una frostbord Poteva giocare con la frostbord Vado a fare delle botole Ok 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 Sì è il poli blu è una phaser uno, quello dove dove c'è la sorta arriva e non ho sganato, me ne vado ah è un altro, Iana destra quella porta è molto minacciosa oh mio dio che palle, cristo dio bene, io miro è in 3 gesti, uno, Iana come è una testa non è un po' 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 Elettrico, Elettrico Mamma mia, questo, questo dovrò rischiare Però ma tu sai che Iana sa tutto? E ce n'è uno che guarda di colping Elettro, Elettrico Elettrico Il problema è che non posso fecciare Perché sono morto Lì è che ero morto Morta pure l'altro in white Quanto citto, non so neanche come l'ho sentito No Iana citta di più Non so neanche come l'ho sentito No Iana, quella contro citta di più Non so neanche come l'ho sentito Non so neanche come l'ho sentito Non so neanche come l'ho sentito Ok Sono successe cose strane Sono successe cose strane Sinceramente Io ho ucciso uno con la granata La chat ma ho ucciso anche il mio compagno Ha iltato, ha iltato Si lo hai distrutto Che po' comunque ho ucciso un mio compagno Con la granata Si l'ho notato Ma ho ucciso pure un altro Perché ce n'era una Io mi dissocio da queste bet Molto sgradevoli Ma perché sta troppo forte No no Nessuno aveva posato le bet Conque chat Quando non ci sono i cheater Le partite sono fighe Ok Quando non ci sono i cheater Comunque Iana contro Muta Iana contro Che puzzava un po' di merda Muta Iana contro Muta